Sì, e anche al tempo stesso non c'è dubbio che c'è una dimensione di strumentalizzazione politica, a seconda del colore politico del governo, di chi sta a Palazzo Chigi, le opposizioni trasformano in una colpa di parte quello che è un problema molto più vasto, un problema mondiale. Guardate, davo un'occhiata ai dati dei battelli che hanno trasportato profughi dalla Francia all'Inghilterra l'anno scorso, in tutto 45 mila persone. Di recente si sono incontrati il premier inglese e il presidente Macron a Parigi per un nuovo accordo che assomiglia stranamente all'accordo che l'Italia ha con la Libia, cioè l'Inghilterra paga la guardia costiera francese, Londra paga proprio i francesi perché fermino almeno una parte di quei battelli, la Francia sta riaprendo un centro di detenzione dopo quello che aveva chiuso a Calais, ma insomma i fenomeni sono molto simili. Qui in America non abbiamo tanto il confine marittimo, anche se qualcosa accade anche lungo le coste, ma è soprattutto un confine terrestre, quello tra Messico e Stati Uniti, ma l'assalto al confine è lo stesso ed è un confine mortale anche il nostro perché si muore attraversando deserti che sono troppo caldi d'estate per sopravvivere alla traversata, troppo gelidi d'inverno. Biden è un presidente di sinistra, ma sta continuando delle politiche identiche a quelle di Donald Trump per tentare di contenere l'assalto al confine e di regolare i flussi migratori. Lo fa mentre nel contempo l'anno scorso ha rilasciato 7 milioni di visti regolari, cioè cerca da un lato di governare l'immigrazione che serve all'economia americana, ma dall'altro è durissimo con l'immigrazione clandestina. Quindi è veramente un fenomeno globale, il fatto che in questo momento ci sia Palazzo Chigi, un presidente del Consiglio di destra, non cambia veramente le coordinate della situazione. Se non ovviamente rispetto al fatto che quello è il tuo tema bandiera, quindi questo magari mette più in difficoltà il governo che di quel tema ha fatto il centro della sua attenzione e anche che su quel tema ha preso tanti voti.